Concorrenti, un ascensore, il primo che parla è eliminato. Questo è chi vuole essere in ascensore. Sciare! No! Sai va? No! No! Pigio, 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 pigio! Eh, ha parlato, ha parlato! E quindi chi ha eliminato? Eh, però, cacchio, no! Attenzione, controllo var in corso. No, sì, ho parlato io, sono eliminato io. Ma no, no! No! Ma no, dai!